Bella iniziativa dell'associazione Ollus Progetto Gaia che ha permesso ai bambini ricoverati presso il reparto di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale Salesi di ricevere la visita delle campioni di motocross e freestyle Vanni Oddera. Mio figlio era molto appassionato di moto ed è per questo che abbiamo voluto fortemente questa cosa. Il pilota è impegnato da anni in iniziative benefiche in favore di associazioni di disabili e nel 2014 si è recato per la prima volta con una moto elettrica in un reparto ospedaliero per soddisfare il desiderio di un bambino malato oncologico. Io ho detto ma come sono venuti? Dopo ero basito quando ero andato e non l'ho detto. Tu sei salita anche sulla moto? Sì sono salita anche sulla moto. Quanto ti sei divertito oggi? 10 su 10. Oddera ha promosso il progetto Freestyle Hospital fondato sull'attività ludico-motoria della mototerapia in ospedale. Essere qui dà proprio una motivazione in più ad andare avanti ed è la cosa che ci piace più in assoluto come piloti perché regalare emozioni, regalare momenti di gioia, migliorare la qualità di vita delle persone penso che sia la cosa più bella del mondo. La mototerapia porta ai ragazzi evidenti benefici e tanti ospedali l'hanno adottato in reparto come appuntamento fisso per sostenere i ragazzi e le loro famiglie durante il percorso della malattia. Per un bambino direi che nulla è impossibile in questa situazione per me è veramente importante è un momento di grande emozione e gioia. Chiunque può partecipare. Penso che non ci siano limiti o barriere appunto per poter salire in moto e provare questa emozione. Ovviamente la paura non esiste. La paura non esiste, sono bambini invincibili. In questa prima visita al Salesi Vanni Oddera e un secondo pilota accompagnati dal referente del team e da due rappresentanti del gruppo VR46 di Valentino Rossi in tutta sicurezza hanno fatto salire i pazienti sulle loro due moto elettriche e insieme hanno percorso il corridoio del reparto dei hospital della oncomatologia pediatrica. È una dimostrazione concreta di un qualcosa che secondo me lascerà il segno nell'immaginario dei nostri piccoli pazienti. Grazie a tutti.